Sono Luca Valcarenghi e ho il piacere di presentare il nostro recentissimo brevetto Lord Iron. È un prodotto che va inserito all'interno di abiti e giacche, creando una leggera imbottitura che nel ripiegare il capo impedisce lo schiacciamento del tessuto e quindi la formazione di pieghe. Il suo impiego è semplicissimo. Si inserisce il pantalone, poi il tutto va all'interno della giacca. Si piega normalmente, si depone in valigia o trolley. È misura unica, unisex, sottile, leggero. Con Lord Iron si arriva stirati come dei Lord.